Un'animo sicuramente diverso per Giuseppe Mascara che ha fatto la svolta della sua carriera decidendo di giocare con il Napoli, maglia numero 9, la scelta più importante della mia vita alla definita. Ringrazio il Napoli per avermi voluto e per avermi seguito, sono felice, sembra un bambino al suo primo giorno di scuola, per me oggi è come se fosse il primo giorno tra i professionisti, lo sentiamo. Sono consapevole di essere venuto qua in una città importante, in una squadra importante, in una società importante, l'obiettivo è quello di riuscire a fare sempre meglio ogni giorno che passa. Avete capito, ricontinuiamo a vincere perché è bello vincere, porta allegria, porta armonia, si lavora bene durante la settimana, vedi le partite della domenica in un altro modo. Per quanto devo essere pronto, sono prontissimo perché sono affascinato da questa sfida, l'ho detto quando si è chiuso il mercato, vengo qui con tanto entusiasmo come se fosse la mia prima esperienza tra i professionisti. La voglia e anche la modestia, comunque no Stefano, Mascara è un grande campione, fino a qualche giorno fa era l'idolo incontrastato di un'intera piazza, di Catania, il capitano, e fanno davvero specie queste sue parole come se fosse davvero l'ultimo arrivato. Neoquisto del Napoli servirà il piede di Mascara per le punizioni, aveva detto nei giorni scorsi anche Mazzari.